Non posso credere di essermi ridotto così male. E tutto a causa del mio peso. Adesso sono così grosso che non posso fare niente da solo. Sono bloccato a letto tutto il giorno. Ormai sono due anni e mezzo che è così. Questa non è vita. Ogni giorno è avvilente. E tutto questo è perché adoro tantissimo il cibo e non riesco a smettere di mangiare. Le uniche cose positive che mi sono rimaste nella vita sono la mia famiglia e il cibo. Per niente al mondo avrei pensato di ridurmi in questo stato. Nessuno si aspetta che la sua vita possa prendere una piega simile. La mia vita è stata complicata fin da quando sono nato. Ho avuto un'infanzia turbolenta. Non ho mai conosciuto il mio papà biologico, non è stato presente nella mia vita. Non sapevo niente di lui, eccetto il fatto che fosse sposato e che avesse una famiglia. Mia madre mi ha solo raccontato che era successo una sera in un pub. Per lui ero la prova di una relazione e non suo figlio. Quel rifiuto faceva male, ma almeno avevo mia madre e sapevo che lei mi amava. Nella mia prima infanzia eravamo solo io e lei. Ma tutto è cambiato all'età di sette anni, quando mia madre ha conosciuto un uomo, il mio patrigno Jim. Per tanto tempo siamo stati solo io e Silas. Ma quando è arrivato un uomo nella mia vita, ecco, c'è stato molto risentimento da parte sua. Mi sento davvero in colpa per come è diventato Silas. Perché avrei potuto fare di più per lui. Ma non l'ho fatto. Negli anni a seguire mia madre ha avuto altri due figli con Jim. Mio fratello James è nato quando avevo nove anni e mia sorella Ashley è nata quando ne avevo dieci. Così in pochi anni ho avuto una nuova famiglia. Ma il grosso problema è stato che non mi sono mai sentito il benvenuto. Perché in famiglia ero l'unico figlio acquisito per Jim. Non mi sono mai sentito davvero accettato da lui. Mi sentivo solo e come se non appartenessi alla mia famiglia. Tutto questo è peggiorato nei due anni successivi, dagli 11 ai 13 anni. È stato allora che ho iniziato a trovare conforto nel cibo e a mangiare tanto. Perché farlo mi aiutava a sentirmi meglio e a non sentirmi solo. Così ho iniziato a mangiare sempre di più. Amavo la sensazione che ricevevo dal cibo e non volevo mai fermarmi. Naturalmente ho iniziato a ingrassare molto. E a 13 anni sono arrivato a pesare oltre 135 kg. Quando le mie dimensioni sono diventate un problema, i miei genitori sembravano starmi sempre addosso per farmi perdere peso. E questo mi ha portato a litigare molto di più con loro. L'abbiamo messo a dieta, l'ho anche portato da alcuni medici. Non seguiva la dieta, così abbiamo capito che era una battaglia persa. Le cose si sono messe così male che alla fine mi hanno mandato a vivere a Detroit con mia nonna. Da quel momento il rapporto con mia madre e con il resto della mia famiglia ha iniziato ad allentarsi. Ma ecco, avevo ancora il desiderio di mantenere il legame con i miei genitori. Così a circa 15 anni ho chiesto a mia nonna se poteva aiutarmi a trovare mio padre. Così lei ha chiesto al marito di mia zia se poteva cercarlo. E lui lo ha fatto. Gli ha detto... Gli ha detto che avevo il desiderio di conoscerlo. Ma lui non voleva avere nulla a che fare con me. Questo mi ha fatto tanto male. Perché era un altro rifiuto. Non avevo un singolo genitore che mi volesse. Così ho continuato a mangiare per scappare e stare meglio. E a 16 anni sono arrivato a pesare oltre 180 chili. A quel punto il mio peso è andato così fuori controllo che avevo difficoltà a fare praticamente tutto. Così ho finito per lasciare la scuola. Per un po' di tempo, quasi per i 9 anni seguenti, ho vissuto con mia nonna passando quasi tutto il tempo a mangiare e ingrassare. E' stato quando ho compiuto 25 anni che ho raggiunto i 225 chili. Tutto quello che avevo da mostrare di quegli ultimi 9 anni erano i 45 chili che avevo preso. In quel periodo l'unico grande sviluppo è stato scoprire che il mio papà biologico era venuto a mancare. Ma la cosa non mi ha toccato molto non avendolo mai conosciuto. E' stato intorno ai 25 anni che ho deciso che dovevo cambiare direzione. Iniziavo a sentire che la vita mi stava passando accanto e avevo il desiderio di avere una famiglia tutta mia. Così sono tornato in Oklahoma dove c'era la mia famiglia. E' stata una delle decisioni migliori che abbia mai preso perché è stato qui che ho conosciuto Jessica. Avevo ritrovato i miei vecchi amici e lei frequentava uno di loro. Ma tra noi è scattato qualcosa. Lei ha rotto col suo ragazzo e abbiamo iniziato a uscire. La cosa è diventata seria e siamo andati a vivere insieme. Mi sono sentito subito come un padre per le sue figlie. Non ho mai voluto che si sentissero come me con il mio padrigno. Così le ho sempre trattate come se fossero mie. Iniziavo ad avere la famiglia che sentivo mi era sempre mancata. E per la prima volta dopo tanto tempo ho sentito che la vita andava come avrebbe dovuto. Perché non solo avevo una famiglia, ma avevo anche un lavoro in un giacimento petrolifero. E potevo iniziare a provvedere a noi. Tutto iniziava ad andare per il verso giusto. L'unico problema era che pesavo ancora oltre 225 chili. E che mangiavo come avevo sempre fatto. Quindi il mio peso continuava ad aumentare. Arrivato a 30 anni pesavo 250 chili. È stato allora che ho avuto un altro terribile aumento di peso. All'epoca facevo il camionista. Quindi stavo seduto tutto il giorno e mangiavo molto nei fast food. Così ho iniziato di nuovo a prendere rapidamente peso e sono aumentato di altri 45 chili in soli 3 anni. Toccando 295 chili a 33 anni. È stato più o meno allora che sono stato licenziato. Ho finito per stare a casa tutto il giorno, perdendo lentamente le mie capacità motorie. Ero depresso per come la mia vita iniziava di nuovo a sgretolarsi. E questo mi faceva desiderare ancora di più di mangiare per scappare. Nei due anni seguenti è diventato un circolo vizioso. Ero così sconvolto per come era la mia vita che mangiavo e ingrassavo. Così le cose sono peggiorate fino al punto di diventare così grosso da essere costretto a letto. Sono troppo pesante perché le mie gambe possano sostenermi. Così devo vivere su un letto ortopedico e Jessica e le mie figlie devono prendersi cura di me. Odio tutto questo perché non mi sto perdendo solo la mia vita. Mi sto perdendo anche la vita della mia famiglia. È terribile, è davvero terribile essere come me. Ora come ora non aspetto altro che Jessica mi porti il pasto successivo. Mangiare elimina tutta la depressione e il dolore e mi dà un momento di gioia. Quando quel momento è finito ne voglio un altro e un altro ancora. Non riesco a fermarmi. Adesso è come se Jessica dovesse portarmi da mangiare tutto il giorno perché ne ho costantemente bisogno. Ma odio che debba prendersi cura di me e nutrirmi senza sosta perché deve prendersi cura anche delle bambine. E poi provare ad andare alla scuola per infermiere, per avere un lavoro e provvedere a noi. Io dovrei essere di aiuto in tutto questo. Non peggiorare le cose. Ma adesso sento di essere solo un peso e lei non merita questo. Nessuno nella mia famiglia lo merita. La mia grande paura è che un giorno prima o poi Jessica arrivi al punto di rottura. Prenda le bambine e mi lasci per avere una vita migliore. Darei tutto per cambiare lo stato attuale delle cose. Non ho bisogno di grandi cose. Voglio solo poterla portare fuori a cena e farla sentire speciale come facevo prima. Voglio poter portare le mie figlie in posti divertenti e anche godermi la vita con loro. Voglio esserci per loro. Voglio bene a mio padre. Mio padre deve perdere tanto peso per poter giocare con me. Quello che mi ha portato a ridurmi in questo modo è quello a cui sembro non riuscire a rinunciare mai. Ma so che se non mi fermo e non cambio non potrò vivere ancora per molto tempo.